È stata una bellissima esperienza innanzitutto, le partite di Girone sono sempre partite differenti dall'ultimo blocco finale diciamo perché sono quelle che ti fanno crescere, comunque abbiamo incrociato delle squadre che alla fine erano un po' inferiori a noi per esempio l'Israele, tutte squadre comunque di livello però non ancora forti quanto l'Olanda, magari l'Ungheria e anche fisicamente e tatticamente è stato un torneo comunque in crescita e c'è un po' di rammarico sicuramente per la semifinale che si poteva sicuramente fare meglio e anche soprattutto perché la Spagna che ha vinto l'Europeo è una squadra che noi avevamo già battuto durante i Gironi con uno scarto di tre gol e quindi ovviamente dopo quando hai finito sei soddisfatto certo di avere la medaglia di bronzo al collo però pensi potevo fare sicuramente qualcosa in più Cosa secondo te è mancato per arrivare fra le prime due primi insomma per vincere? Sicuramente il fatto che ci sono state delle partite diciamo tra la Spagna e la semifinale delle partite in mezzo che non erano proprio di livello anche l'intensità di gioco magari ci siamo un po' rilassate diciamo infatti anche durante gli allenamenti là nei giorni di pausa abbiamo provato a giocare contro l'Olanda appunto contro l'Ungheria cioè tenere un po' alto il ritmo però ovviamente psicologicamente è un po' difficile tenere la concentrazione anche perché è un Europeo che dura 20 giorni, 21 giorni e quindi essere concentrato sempre è difficile poi arrivi allo scoglio finale che diciamo l'ultima parte del torneo quindi parliamo del quarto di finale, semifinale, finale che sicuramente devi essere concentrato perché ti giochi il tutto per tutto in quelle tre partite e ovviamente la testa deve essere lì e dopo che hai fatto otto giorni di pausa o comunque allenamenti un po' meno intensi essere concentrato è molto difficile